E allora, volendo con voi annunciarvi questi canti che ascolterei adesso, la prima certamente non ha bisogno di ripresentazioni, la nostra apiosa, scritta dal poeta salulese Salvatore Sì, più di cento anni fa, la nostra serenata d'amore per eccellenza. Abbiamo poi un canto al quale loro sono particolarmente affezionati, questo canto intitolato, questa composizione intitolata Serenata ed è scritta dalla Canoni Bossolinas insieme a Maestro Sculli e poi abbiamo questo brano che è intitolato Genargetto, ovvero Maestro, questo è un brano inedito e chi ha scritto questo brano? Ha scritto Giazio Natti, un palissimo poeta, insomma, non ci siamo inizialmente, è la prima cosa che vi abbiamo intitolato, quindi speriamo che questo inno abbia un attivamento, insomma, sia il vostro gravimento in primis, per cui, ricorda questa, non fa carruzzo, ci perseghi intitolato, però, ricorda di vedere, facciamo prima la Genargetto in questo momento. Ah, benissimo, bene. Iniziamo con un applauso. Abbiamo finito di fare questa piccola correzione, finchiamo al coro San Nicolato di Oltuei, lo stesso silenzio, la stessa attenzione che abbiamo riservato a tutti sino adesso, sono certa davvero che le valrà la pena. Un applauso a voi. Grazie. 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 La vita è un po' di riuscire, a salute e a camminare, canti improvvisata, a salute e a camminare, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a salute e a camminare, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a salute e a camminare, canti improvvisata, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a camminare, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a camminare, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a camminare, canti improvvisata, canti improvvisata, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a camminare, canti improvvisata. La vita è un po' di riuscire, a camminare, canti improvvisata. Grazie a tutti